è stato bello finché è durato ragazzi no adesso parto gli scherzi post partita di juventus roma 0 a 0 e posso dire me l'aspettavo è un banco di prova per tiago molto adesso io non non voglio metterlo subito in croce ma so che ci saranno molti che sinceramente lo lo daranno cioè lo prenderanno e lo ammazzeranno subito perché secondo me dopo la partita di stasera in molti che si erano esaltati perché ho visto parecchi tifosi juventini esaltati in molti si incazzeranno come delle bestie è giusto ovviamente adesso prenderci la fase di sfottò anche se di sfottò proprio non si può parlare perché comunque abbiamo pareggiato è stata una partita rognosa parliamoci chiaro è stata una partita rognosa ragazzi sin dall'inizio sin dall'inizio perché non siamo riusciti proprio a concludere verso la porta la roma era chiusa a riccio e detto questo io credo che il pallino del gioco ce l'abbiamo avuto noi ma purtroppo quando incontro una squadra come la roma che ha dovbic in avanti e dovbic per 70 minuti che è stato in campo non ha fatto un cazzo ma così come tutta la roma perché io forse una mezza azione pericolosa ma neanche non hanno neanche fatta una mezza azione pericolosa non l'hanno neanche fatta e noi siamo stati anche un po sfortunati perché in alcune occasioni potevamo fare di più in altre si poteva fare meglio e in altre invece si si doveva avere un po più di precisione sotto porta e però boh non so ragazzi io adesso non non dico che dopo questa ti ho molto da esonerare anche perché comunque sono passate tre giornate io detto sinceramente avrei schierato tutti i nuovi acquisti cup cup maners con se in sao e nico gonzalez perché quando comunque ha messo cup maners e con se in sao la squadra è cambiata da così a così parliamo dei singoli locatelli mi è piaciuto tra a parte a parte che ragazzi io stasera ho fatto una fatica a guardare sta partita cioè io avrei voluto fare una reaction registrandola come sto facendo adesso in questo video però boh non non funzionava un cazzo non funzionava un cazzo e quindi ho detto il progetto delle delle live reaction è andato sia per quanto riguarda lo stream che per quanto riguarda tutto il resto forse potrei pensare di farle quando la juventus gioca in champions league perché tanto ce l'ho sul sul televisore in 40 pollici prime video e amen c'è quello poi ti metti lì col telefono e fai la reaction forse le partite della champions league che sono tantissime e anche forse quelle di coppa italia ve le posso fare le reaction però queste qua di campionato no perché quando decidi non funzionare non c'è verso e poi cosa cos'altro allora io dico io dico una cosa stasera era il banco di prova di tiago motta ok contro le big e io vi dico la sincera verità non se l'è cavata neanche che è malissimo il problema è che a oggi facciamo ancora parecchia fatica con le big io voglio sperare che quando rientra turam quando ci saranno nico gonzalez cup maners con se sa o con turam magari ci sarà anche wea questa squadra possa prendere un altro piglio non che abbiamo giocato male perché per carità di dio con allegri sta partita se l'avessimo vinta che oddio proprio perché la vincevamo eh con allegri però per carità non sto rimpiangendo quell'ebete ma assolutamente no e anzi gira voce che se lo vogliono prendere quello del benfica fate pure saranno anni di inferno per voi anche perché che cazzo sarà del campionato portoghese qual'altro vabbè e adesso andiamo a questa sosta sicuramente Tiego Motta avrà modo di studiare qualcosa di nuovo per la partita contro l'Empoli e ripeto stasera la squadra mi è piaciuta ragazzi cioè adesso al di là di tutto è vero che abbiamo pareggiato è vero che abbiamo fatto una partita magari un po' più moscia rispetto alle altre due ma le altre due erano contro Verona e Como cioè è chiaro che la partita era un po' più brillante specialmente col Verona che ti regge 40-50 minuti e poi crolla la Roma la Roma è una squadra diversa la Roma è una squadra totalmente diversa perché non non è il Verona non è il Como cioè ha degli ottimi giocatori a Dovbic a Suley a Dybala a Shomurodov che può che può schierare per cui secondo me non c'è da disperarsi io sono tranquillo perché è in pareggio non è una sconfitta se avessimo perso magari staremmo parlando di qualcos'altro è chiaro che se avessimo vinto eravamo davanti ai campioni per la ricerca e sai concludere le prime tre giornate con i campioni per la ricerca sotto sarebbe stato godurioso però intanto adesso ci concentriamo su questa sosta che che allora io vi anticipo già che domani se riesco e se li trovo soprattutto uscirà un video con la mia reazione e parere sui convocati di Luciano Spalletti per quanto riguarda la Nations League che è ormai imminente tra il 6 e il 9 settembre ragazzi andiamo a concludere il discorso sulla sulla partita allora la Juventus mi è piaciuta sì mi è piaciuta abbiamo giocato quando ho messo i nuovi ci siamo alzati un po' di più siamo andati a prestare bene quindi secondo me la squadra è ottima adesso bisognerà che il nostro allenatore si inventi qualcosina di nuovo perché comunque dopo un po' è chiaro che chi ti studia la partita durante la settimana dell'allenamento poi riesce ad imbriarti che poi la Roma non ci ha neanche imbrigliato perché ripeto la Roma non è che abbia fatto tutto questo tutto questo gran partitone anzi nella prima mezz'ora della ripresa eravamo noi a controllare la partita stesso identico discorso nel primo tempo nel primo tempo ragazzi la Roma si ha fatto un tiro ma l'ha spedito fuori cioè ok ha avuto diversi calci d'angolo ma non è stata pericolosa che tu dici minchia la Roma ha meritato un possibile vantaggio no ma perché è stata una partita blanda ma da parte di entrambe la Juve ha fatto un pochettino di più ovviamente come ho detto questa non non deve essere assolutamente un campanello d'allarme anche perché comunque non è che stiamo parlando di una squadra che ha fatto due sconfitte in pareggio stiamo parlando di una squadra che ha preso zero gol nelle prime tre partite quindi ragazzi piano piano con tempo io ripeto non mi entusiasmo più di tanto perché tanto questa stagione è diciamo di restaurazione così come era come erano anche le tre stagioni con Allegri ma è stato un disastro dietro l'altro c'è la Champions League quindi tante partite c'è il mondiale per club quindi raga sta rosa prima o poi sarà collaudata e piano piano vedrete che assimileranno le movenze e le giocate di Tiago Motta detto questo ragazzi fatemi sapere la vostra sotto nei commenti io vi invito come al solito a lasciare un mi piace iscrivervi al canale attivare la campanellina così non vi perdete più nessuno di tutti i video che ci saranno da qui fino a poi al mese di giugno luglio e niente io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza Juve